Non voglio mai più mettere piede in quella palestra Stavo sul tapis e a un certo punto ho cominciato a sentire caldo Sotto avevo un completino Quindi mi sono tolta la t-shirt Ho continuato a correre A un certo punto mi sono accorta che c'era un gruppo di ragazzi di fronte a me Mi guardavano, parlavano fra di loro e ridevano Sono sicura che guardavano me perché a parte che non c'era tanta gente Confiavano le guagge, facevano p*** Mi hanno detto tutta la vita ma in palestra Avete visto il video che ho appena mostrato Lo so che maggior parte di voi che siete su social Avete visto già questo video di questa ragazza che si chiama Francesca Per chi non ha ancora visto questo video Ovviamente su social puoi trovare anche su Instagram, Facebook eccetera Però provo di spiegare un pochettino cosa è successo Questa ragazza praticamente è andata in palestra ad allenarsi E ci sono i ragazzi che prendevano lei in giro Per suo peso, suo fisico eccetera Però io sono qua Di solito non faccio questo video Anche adesso ho appena visto questo video Perché mi avete mandato In tanti grazie che mi avete mandato questo video Perché è un video in cui dobbiamo tutti parlare di questa cosa Praticamente se non ne sbaglio è quasi all'una di notte Però ho deciso di fare questo video per voi Perché questa cosa è così brutto Perché palestra è di tutti E per tutti Per questo è aperto per tutti Quindi per quelli che vanno in palestra Per prenderci in giro Uno o all'altro Perché hanno un fisico migliore O all'altro fisico superiore secondo loro Ragazzi dovete smettere di fare questo video Vedi come avete preso questa ragazza Che ha provato di andare in palestra Per fare il suo bene essere E voi avete rovinato la giornata Probabilmente avete rovinato anche La speranza di questa ragazza Non ha senso che facciamo queste discriminazioni Su gente in palestra Palestra è aperto per tutti E questi ragazzi o ragazze Che avete fatto questo gesto Contro questa ragazza Dovete essere secondo me espulso da palestra Non dovete mai mettere i piedi più in palestra Per cosa avete fatto questi ragazzi E anche dovete chiedere veramente scusa A questa ragazza Perché questa ragazza ha deciso di Per questo percorso per andare all'allenare Se avete visto che avete rovinato Questa ragazza ha detto che non si mette più piedi in palestra Però non ha senso che dobbiamo prenderci in giro Uno o l'altro in palestra Soprattutto nella vita non ha senso In palestra pure Quindi ragazzi Anche bene o male Perché questa ragazza ha coraggio Ha avuto coraggio di parlare Eccetera Così Tutti noi abbiamo visto questi video Perché sono tanti ragazzi Che stanno ziti Magari sono timidi E prendono tutti male dentro E non vanno in palestra più Per questo motivo Quindi ragazzi Dovete veramente smettere di prendersi in giro Anche per la ragazza Che ha fatto questo video Francesca Siamo tutti con te Non mollare Questo è cosa io Ho da dirti Non mollare Per questi ragazzi Che hanno preso in giro a te Veramente Non mollare Perché tu stai andando in palestra per te stesso Tu hai tuo percorso E noi veramente amanti di palestra Siamo tutti con te Siamo sempre contenti Quando gente Si iscrive in palestra Vengono in palestra A allenarsi Solo quelli lì Che non sanno Penamente Perché stanno venendo in palestra Che fanno roba di genere Fidati che non siamo tutti così Quindi Francesca Prenditi Tutto in tua mano Continuate ad andare in palestra E non ascoltare questa gente Ci vediamo Grazie Un abbraccio a Francesca Grazie